Rieccoci qui in diretta dal Salone del Risparmio 2019. Il tema ISG è stato affrontato anche dai nostri ospiti attraverso le più diverse connotazioni e declinazioni, anche con l'ospite che abbiamo qui presente Donato Giannico di Raffaizen. Qual è la vostra view rispetto al tema ISG? Intanto non è una moda ma è veramente un trend molto robusto, lo vediamo perché quello che noi abbiamo fatto incominciando questa attività molti anni fa, abbiamo investito molto in comunicazione, in informazione, adesso cominciamo a vedere dei risultati importanti, tanto è vero che oggi sulla base della raccolta che stiamo facendo ancora da qualche mese l'80% sono prodotti sostenibili. Raffaizen ha una gamma di prodotti sostenibili abbastanza vasta, siano 8 in questo momento e tra questi esistono due o tre molto importanti dal punto di vista della performance, uno fra tutti che ha 35 anni di track record e quindi stiamo raccogliendo molto su questo. Rispetto ai mercati qual è il suo outlook? Allora, se parliamo di mercati in generale, complessivamente uscendo dal tema del sostenibile mi sembra che, visto quello che è successo negli ultimi quattro mesi, sono molto ondivaghi, si basano molto più sul sentiment che non sui dati reali. I nostri strategist all'inizio dell'anno dicevano una serie di cose, magari influenzate dalla negatività del mese di dicembre quando c'è stato il drawdown, adesso mi sembra che le cose siano messe meglio. Diciamo che noi guardiamo molto più i dati micro delle aziende, per cui al di là di tutto, quello che noi vediamo dal punto di vista micro, notiamo espressamente che gli utili delle aziende ci sono, cioè i dati fondamentali tengono, per cui non ci sono motivi per pensare a una cosa pazzesca nel senso negativo. Quindi possono esserci correzioni come è successo nel mese di dicembre, ma non vediamo, diciamo, grosse nubi all'orizzonte, se non qualche correzione. Ecco, allora a questo punto, a livello di strategia, di investimento, voi che cosa vi sentite di segnalare? Ma allora, sicuramente quello che noi segnaliamo sempre è il fatto di diversificare, è chiaro. pensiamo che l'equity Europa, soprattutto sulle mid-cap, sia molto interessante, magari la US equity è un po' già caro. Stiamo sempre nell'emerging market dal punto di vista bond, sia con local currency che con l'alcarn currency, perché comunque ha ancora valore, c'è molto spread, ma anche sull'azionario, magari investendo in maniera sistematica per mediare il costo d'acquisto. Ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi, non mi resta che cedere la linea allo studio.